ed eccoci in un altro nuovo video è arrivato il pranzo time allora oggi vi mostro che cosa andrò a mangiare questo qui carne fonte e ottima di proteine nobili patate come fonte di carboidrati condito sempre con olio extravergine di live ovviamente fresco carne sempre cotta al sangue per appunto non perdere i suoi nutrienti perché ovviamente cotta troppo vai appunto a bruciare e a perdere tutte cose tutte le vitamine tutti i nutrienti per cioè come se mangiassi non mangiasi nulla solamente per riempirsi lo stomaco mentre come ho detto e ribadirò sempre cotta al sangue avrai sempre tutti i valori nutrizionali proteine tutti aminoacidi vitamine soprattutto appunto omega 3 se alimentato ovviamente ad erba con questo poi uscirà dopo il video della cena ovviamente stasera noi ci vedremo stasera e con questo ti voglio augurare buon pranzo e buon pomeriggio